Siamo impegnati in una guerra. Questa guerra non si combatte per il momento con uomini armati, ma con le informazioni. C'è una novità importante. Abbiamo una spia sovietica. Vogliamo che la difenda lei. Io mi occupo di diritto assicurativo, non seguo cause penali da anni. Ha assistito molti accusati di essere spie. Questa sarà la prima volta per entrambi. Dovrà fare attenzione. La gente ha paura di quell'uomo. È una minaccia per tutti. Lo sai come ci guarderanno? La famiglia di colui che vuole far liberare un traditore? Ogni uomo merita una difesa. Ogni uomo è importante. A questo momento non fate riferimento all'U-2 come velivolo da ricognizione. Fotograferete dall'alto il territorio sovietico. Mi dica cosa è successo. Hanno preso un osteropilota con la testa piena di informazioni classificate. Abbiamo il loro uomo. Vogliamo che lei negozi lo scambio per evitare trattative ufficiali. Lei potrebbe evitare una guerra termonucleare totale con l'Unione Sovietica. Le parlo della sicurezza del suo paese. Dove vogliono che abbia luogo la trattativa? A Berlino Est. Dimmi che non sei in pericolo. Dammi qualcosa qui a grapparli. Lo faccio per noi. Sono rimaste solo poche vie verso Berlino Est. Lo stato di diritto è meno consolidato laggiù. Eviti ogni contatto con la popolazione. Lei è uno straniero. Tratteremo come i nostri governi non possono fare. Lei è americano. Potrebbe benissimo essere arrestato. Stia lontano dal muro. Lo superi e le spareranno. Sono in molte a sperare che questo scambio non ne venga mai. Non lo lasceremo qui. La situazione sta precipitando. Ci sarà un prezzo da pagare. Un prezzo per il tuo paese e per la tua famiglia. Deve essere uno scambio. Grazie. 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 Grazie.